È un racconto criminale, è un racconto di distopia, ma per me è un racconto romantico. Io da pugliese, quasi la tarantina perché sono della provincia di Taranto, di Martina Franca, questo film mi ha particolarmente toccato perché al di là della distopia e del fatto che sia ovviamente estremizzato, non è una cosa poi così irreale, così lontana dal mondo della Taranto che ho conosciuto e che abbiamo conosciuto. Quindi io mi domando se un film come Mondo Cane, secondo voi, può ispirare soprattutto le nuove generazioni ad avere un pochino più rispetto, rispetto a come non si sono comportate le generazioni precedenti affinché di non vedere poi effettivamente il mondo che tu hai creato. Ma sono molto contento che mi fai questa domanda. Io penso di sì, penso che la generazione di adesso, dei ragazzi, sia già molto consapevole dei problemi ambientali e dei disastri, diciamo, di una politica sbagliata. E quindi vorrei che fosse anche un film che non riguarda soltanto la zona di Taranto, ma un film che tutto riguarda, insomma, che sia su Mondo Cane e Piscia Sotto, ma che arrivi un po' un tema che ai ragazzi di quell'età interessa molto. Anche perché incominciano a farsi un po' di domande adesso, sono molto più svegli, diciamo, da questo punto di vista. No, anche perché mi verrebbe da dire, è talmente sotto gli occhi di tutti, no? Dico anche, diciamo, il caso Taranto. Io penso che per un adolescente oggi è strano non farsi quelle domande, tipo, com'è possibile che non avete fatto niente, cioè che in questi anni non è successo. E quindi chi lo sa? Magari non cambierà niente e faremo la fine di Mondo Cane. Oppure invece magari qualcosa succederà. Però loro si interrogano anche sul pianeta in generale. Insomma, hanno trovato modo di parlarsi anche attraverso i social di quello che è la loro missione. E noi che siamo più grandi stiamo lì quasi a guardare, ma sono i problemi che avevamo prima che per certi versi abbiamo anche ignorato, no? Invece... Nel film fai un uso della fotografia molto interessante, perché quando uno pensa alla distopia spesso pensa a colori molto freddi, molto carichi e quasi glaciali da questo punto di vista. Invece Mondo Cane è caldo, è accogliente, tra virgolette, eppure è respingente al tempo stesso perché appunto ha una tematica, tra le tante tematiche, perché poi in fondo è anche un film sull'amicizia, sul tradimento e sulla crescita. Quindi, come mai questa scelta di contrasti, di giocare sui contrasti? È un racconto criminale, è un racconto di distopia, ma per me è un racconto romantico, perché questo momento, il momento è il momento del sogno, cioè questa età, il Mondo Cane e Piscio Sotto hanno a un certo punto l'opportunità di cambiare vita, anche se è un sogno criminale, ma banalmente anche cambiare casa per loro diventa un'opportunità di vedere qualcosa di nuovo, di partire all'avventura, anche se hanno paura quando la prima volta li vediamo in viaggio. E secondo me, cioè io sentivo l'esigenza di raccontare quell'età lì, l'età del sogno, l'età dell'avventura, non riesco a vederla come un racconto cupo, non riesco a vedere un sogno raccontato senza due amici che si spintorano, che ridacchiano, che fanno quello che fanno poi quando andano, per esempio, allo stabilimento, no? Lì loro sono sul tetto del mondo, cioè perché dovrebbero essere preoccupati? C'è un po' una similitudine fra il tuo personaggio e quello di testa calda, perché entrambi in fondo avete studiato, solo che poi prendete due strade diverse. Cosa spinge? Hanno tutti e due un'ideologia, però è un'ideologia fondamentalmente opposta. Cosa li spinge secondo te in quelle due direzioni opposte? Eh sì, probabilmente nel caso di testa calda c'è un'ambizione molto molto forte, anche un progetto privato, mi verrebbe da dire. La missione di Katia è contenerla questa missione di testa calda. Lei è in protezione del mantenimento dell'ordine rispetto al caos che lui porta, lui è portato anche con un ideale, è l'unico che veramente dà una proposta, una soluzione a quello che stanno, cioè non ce ne andiamo, rimaniamo, come Nerone, distruggiamo, bonifichiamo e ricostruiamo. In realtà è una missione, però si passa per la distruzione. Perfetto, grazie mille a tutti e a due. A te.